Questa scala mobile porta all'uscita della fermata Kuhnströmgård della metro una lunga scala mobile che porta alla fermata della metro è più bella che ho visto in vita mia mi sa che forza è la più bella non c'è niente da fare andate sopra ma che cazzo questo colma 3 a 0 per adesso questo colma di Ciro di Roma già dà l'odore l'odore... sarà che sarà il naso ghiacciato ma gli odori non li senti l'edra, l'estate, ma che roba è ma che schifo ragazzi questo questo soffitto verdicchio questo è stato di divinità di divinità il vell'odore ma guarda che roba nicchia all'Italia no, a Cagliari guarda che cazzo di spettacolo mi sentiamo che prende la metro giusta ma sta tag a Cagliari a Cagliari a Cagliari a Cagliari in centrale in centrale direttamente e questo è una metro e vabbè abbiamo vinto e vabbè abbiamo vinto a Cagliari a Cagliari